sei pronto o pronta a un trimestre da urlo etf in arrivo parliamo di bitcoin seconda analisi week 40 benvenute benvenuta un abbraccio albi abbraccio ivan da urlo benvenuto e benvenuta a te a casa sì noi siamo pronti tu sei pronto sei pronta davvero ci aspetta un trimestre da urlo punto di domanda facci sapere cosa ne pensi sul mercato meglio sulle strade come diceva qualcuno sta iniziando a scorrere più che il sangue la noia perché tanti sono annoiati lo vediamo anche dai commenti preoccupati ma davvero è finita la bull run abbiamo toccato il massimo a maggio dei 64 mila non ci crediamo a tutti questi dati on chain che dicono che le balene stanno accumulando ragazzi seguici fino alla fine e scoprirai che cosa accadrà da quei prossimi mesi dice anche il tuo parere allora detto questo andiamo dentro questa è una puntata davvero da fiato fiato corto bisogna rimanere sul pezzo andiamo a vedere cosa è accaduto in passato nel mese di ottobre nel mese di novembre e nel mese di dicembre che cosa sta accadendo per quello che riguarda gli etf si stanno muovendo le acque etf intendo come approvazione americana perché alla fine è volenti o nolenti il mercato che comanda a livello finanziario tutto il mondo cina a parte china food quindi passiamo la parola subito oggi allo sponsor e entriamo nel video della puntata immediatamente dopo notizie di prime xbt da qualche giorno è possibile fare trading su solana cardano polkadot dogecoin e finalmente è ritornata anche ripple che cosa devi fare creare un account gratuito attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione registrati immediatamente e avrai la possibilità di fare trading con queste nuove valute con queste nuove coppie con una leva fino a 1.20 durante il trading con margine e una leva a 1.10 con un account di gestione della strategia covesting visita subito prime xbt e ringraziamo prime xbt per sponsorizzare parliamo di bitcoin la domanda sempre che bisogna farsi è come sei posizionato come sei posizionata per affrontare questo prossimo trimestre e bene nel male perché le aspettative e le vedrai le vedremo assieme dal nostro punto di vista sono super bullish però bisogna essere sempre preparati a tutti e questo lo si può fare sia con piattaforme come prime xbt quindi con il trading con altre piattaforme con cui facciamo trading e soprattutto sul posizionamento in termini di investimento ma adesso non entriamo nel merito di questo no financial advice andiamo a vedere quali sono le possibilità che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto in passato ci avvaliamo del nostro crypto twitter intanto albi ricorda a tutti di aggiungersi al canale lasciare un bell'icone se vi piacciono questi contenuti e sottoscrivetevi al canale perché come ha detto albi seguiteci e questi tre mesi saranno super interessanti quindi non ti devi perdere neanche un video sottoscriviti subito al nostro canale voglio partire da questa figura un twitter di sunny decree ogni volta che il bitcoin dumpa fa un dumps cioè un crollo un calo questo è quello che accade dietro le scene e questo è quello che apre proprio a quello che abbiamo sempre detto negli ultimi settimane negli ultimi mesi per quello che riguarda i dati on chain andiamo a vedere anche un approfondimento importantissimo sui dati on chain legato a quello che abbiamo visto nella puntata del martedì scorso se non l'hai vista link qua sopra valla a rivedere perché è veramente molto importante ho accennato prima quello che sta accadendo sul sulle strade sul mercato c'è paura e lo vediamo dal fear and greed index che in questi giorni qua o meglio oggi è a 20 quindi extreme fear solitamente estrema paura o come dice a warren buffett quando c'è bagno di sangue sulle strade è il momento migliore o è quello che precede poi grandi cose quando c'è proprio la disbelief cioè quando c'è proprio la l'uscita dalla dalla confidenza dal non essere più sicuri di quello che sta accadendo però intanto vediamo cosa sta accadendo in termini di molto interessante eh facciamo un po' una carrellata su twitter del dei tweet più significativi dal nostro punto di vista qui ringraziamo will clemente che in realtà poi riporta il il tweet di un altro collega questi che vediamo qua in giallo sono tutti bid cioè ordini di acquisto già posizionati ti ricordi nelle nostre puntate precedenti di che cosa abbiamo parlato abbiamo parlato di un possibile scivolone del prezzo del bitcoin tra i 40 e i 37.500 barra 38.000 fondamentalmente quello che un po' sta accadendo è accaduto poi la domanda è lo scivolone già finito e da cui si riparte o si andrà a riempire questi ordini posizionati qui qui parliamo di tantissimo denaro e questo denaro è posizionato pronto per acquistare bitcoin tra i 39.500 circa dollari 39.500 e i 36.500 indicativamente guarda caso quello di cui noi parlavamo settimane fa e guarda caso è la stessa identica cosa che anche noi stiamo facendo anche noi abbiamo ordini esatto tra tutti questi soldi sono anche i nostri abbiamo già acquistato in alcune occasioni poi per certe strategie abbiamo acquistato venduto acquistato venduto in termini di trading di più breve periodo in termini di posizionamento di medio lungo periodo proprio per affrontare questo trimestre che sta arrivando anche noi siamo già dentro ovviamente ma lo siamo da tantissimi mesi barra anni e continuiamo ad accumulare e questa è una delle nostre posizioni anche se vogliamo svelate ci darà l'opportunità albi è qui abbiamo abbiamo la nostra idea intanto oggi finisce il l'anno fiscale americano al 30 di settembre poi proprio per valorizzare questa idea vediamo un pochettino quello che dice anche dylan lecler e non solo a temp quindi il tentativo di sopprimere il bitcoin attraverso i derivati mentre si fa accumulazione spot è in opera questo è il gioco che è stato giocato fino ad ora l'abbiamo sempre detto questa cosa qua però come vedi anche grandi esperti come dylan lecler ne parlano proprio ora mentre le persone si lamentano riguardo a un grafico brutto un grafico bearish al continuo scivolone non si muove lo vediamo anche dai commenti dei nostri video per quanto sono meravigliosi e ti ringraziamo e ti chiediamo di continuare a commentare però vediamo anche commenti di persone che non ci credono più oppure si lamentano che il prezzo è fermo da tanto tempo che è tipico e normale del bitcoin il bitcoin che se volentieri fa proprio addormentare le persone anche perché chi è in questo mondo il mondo delle cripto è abituato ad allegria grandi grandi movimenti e arriverà arriverà sicuramente arriverà quindi questo è quello che sta accadendo ci fa manipolazione del mercato ma si dice manipolazione ma è il normale è la normale partecipazione al mercato tieni presente che anche tu o io o chiunque che va a comprare a mercato vendere a mercato anche con che ne so 0,001 bitcoin in realtà sta partecipando alla manipolazione perché proprio come in un sistema di fisica quantistica ogni operazione ogni ogni intervento va a modificare l'assetto del mercato di quel momento ovvio se entro con miliardi incide molto di più che non è una piccola quantità quindi questo è quello che sta accadendo quello che diceva ivan è ce la farà il prezzo a riempire questi ordini qui oggi è finito l'anno fiscale l'anno scorso abbiamo una teoria l'anno scorso albi e anche nel 2017 nel 2017 adesso lo vediamo era partito nell'ultima settimana di settembre mentre nel 2020 la prima di ottobre aspetta non svelare che questa è la parte no 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 andiamo a vedere graficamente con l'analisi tecnica fatta da ivan che andiamo a vedere anche storicamente cos'è accaduto ma rimaniamo un attimo per adesso il presente senza sapere cos'era accaduto in passato anno fiscale chiuso quindi da domani si sbloccano non è detto che entrino già ma si sblocchino si sbloccano chance di investimento per grandi istituzioni privati imprenditori compagnia bella parliamo di stati uniti aziende eccetera è in dubbio che si sta facendo questa manipolazione proviamo a a motivartela in questa maniera questa è un po' la nostra teoria nostra idea e poi mi raccomando dici se secondo te questa idea può essere valida magari hai maggiori conoscenze di noi per quello che riguarda i future quindi i mercati in leva e che ben venga perché poi ci rifacciamo anche noi a personaggi illustri quindi impariamo tutti i giorni e seguiamo quello che che si sta facendo mettiamo io 100 bitcoin con cui lavorare fare acquisti e vendite il valore di 100 bitcoin ne utilizzo uno per andare a mettere in leva il mercato utilizzando la leva andare a muovere il mercato quindi cercare di farlo scivolare sempre di più al fine di poi riempire il mio il mio bag riempire la mia borsa con altri acquisti di bitcoin fin tanto che sacrifico questo bitcoin come valore per poi andarne ad acquistare magari 10 o 50 e compagnia bella con l'idea che questi poi aumenteranno di valore quindi il bitcoin sacrificato mi rientra moltiplicato per 50 100 questo è un pochettino quello che accade in termini di manipolazione però c'è da dire oggi mi costa un bitcoin muovere il mercato per poter acquistare un prezzo più basso se da domani quindi dal dal nuovo anno fiscale americano c'è talmente tanta pressione di vendita anche spot market e non solo in leva ecco che non ce la faccio più con quel bitcoin che avevo a disposizione a modificare il mercato perché oggi il volume è veramente basso in questi giorni modificare il mercato ma il flusso di capitali in ingresso è talmente alto che io divento insignificante con quella cifra che avevo messo a budget per muovere il mercato e allora mi conviene non perdere il treno aggiungermi alla coda e fare i miei acquisti anch'io e quindi ecco che questi questi ordini qua poi dopo possono essere spostati invece più in alto e riparte la corsa o la fomo una prima fomo poi ce ne saranno altri molte più importanti quindi questa è un'ipotesi vediamo cosa accadrà se arriva arrivano talmente tanti capitali nei prossimi giorni magari non ce la fa ad arrivare a 38 mila o 39 o quello che si può si può supporre e da lì partirà già ma perché dice alberto partirà già andiamo a fare una prima una considerazione o barra approfondimento su quanto abbiamo detto nella puntata precedente inerente a a un post o meglio un tweet di lex moskowski che diceva analizzando il grafico del il liquid supply diceva se devi tenere d'occhio guardare una un chart una un grafico prendi solo questo e diceva le liquid supply ripetutamente mette a segno nuovi oltre mai quindi nuovi massimi ha messo segno nuovi massimi in questo mese è arrivata una correzione da parte del grande maestro dell'analisi on chain willy wu nostro nostro mentore che seguiamo assolutamente da anni e dice la faccio breve attenzione non è vero che ha messo a segno nuovi massimi questo mese perché lui da avere un genio nell'analisi dati on chain ha messo ha messo in piedi un aggiustamento grafico per aggiustare la deviazione che questa metrica ha nel tempo e lo stesso lex moskowski l'ha ringraziato per avergli segnalato e fatto vedere questa cosa che comunque rimane sempre super bullish cioè non avere non avere timore perché willy wu insegna e questo lo posso dire per certo perché faccio parte della sua del suo entourage da cui da cui apprendiamo insegna che una liquid supply che aumenta ovviamente poi considerata assieme anche da altre metriche è un segnale estremamente bullish però giustamente dice attenzione non è così bullish come hai pensato l'ex moskowski perché in realtà e lo vediamo qua adesso la ingrandisco non ha ancora messo a segno un all time i questo in verdino più leggero è l'aggiustamento che tiene tiene conto di questa deviazione invece questa è la normale il liquid supply che si può prendere da glass node poi tieni conto che willy wu collabora con glass node anche per creare nuove metriche quindi per rigore di cronaca non è una correzione è semplicemente un approfondimento un approfondimento ci fa vedere che c'è una forte deviazione o meglio scusa una forte divergenza bullish della liquid supply rispetto al prezzo quindi liquid supply che aumenta prezzo che cala il che fa denotare la solita crisi di liquidità supply supply shock che in un tempo che non possiamo sapere potrà essere qualche giorno una settimana due settimane tre settimane il prezzo si andrà ad adeguare sulla base di queste liquid supply poi mi si può contestare il fatto che si dice ok questo non è detto è vero non è detto in passato però è sempre accaduto così quando abbiamo avuto delle divergenze bullish quindi vediamo se si ripeterà ancora e quindi questa è un approfondimento importante perché come vediamo era molto più inclinato sulla base di questo ci aspettiamo un prossimo trimestre veramente col col botto perché le sono non entro nei dettagli dei dati uncene abbiamo visto la puntata precedente chi segue la nostra newsletter e ti consiglio vivamente se non lo fai ancora seguila abbiamo ancora un prezzo mensile di abbonamento che è davvero eh nullo c'è meno di un anzi mezzo caffè al giorno per per avere i dati di analisi tecnica supporti resistenze fatti da la parte analisi dati on chain eh curata da me e ripeto chi ha seguito no financial advice quello che abbiamo ehm fatto vedere e se l'ha interpretato quindi ha studiato e servito come base di supporto per i propri investimenti i propri trading ha ottenuto risultati eccezionali e questo ne abbiamo eh potremmo portarli e potremmo portarli a raccontare la storia quindi cavalca anche tu sti 4-5 mesi che hai avanti poi eh vado sempre col col fiato sospeso per per dare più contenuti in assoluto questa è un'altra delle grandi cose che sta accadendo cioè eh Naib Bukele presidente di El Salvador che è stato l'autore principale per far avere a El Salvador il bitcoin come moneta corso legale aveva detto che si sarebbe mosso per utilizzare l'energia geotermica quindi eh green dei loro vulcani e fare mai di bitcoin detto fatto quello che aveva promesso l'ha già fatto si sta già utilizzando centrale geotermica che utilizza energia dai vulcani eh di El Salvador per produrre per minare bitcoin quindi validare le transazioni la prima nazione al mondo che fa questa cosa qua è arrivata e saranno i primi di tanti eccolo lo vedo eccolo lo vedo è sopra e aspetta che volevo aggiungere un'altra cosa io adesso aggiungerei quello che riguarda l'ETF bravo oppure andiamo sì l'ETF dopo ragioniamo su su plan B che è assolutamente da menzionare prima dell'ETF eh questa cosa il mayor Jason Stewart del Missouri quindi parliamo di Stati Uniti eh ok che ci serve anche per per preparare la strada al discorso etf quindi il sindaco eh del Missouri pianifica di dare ogni ogni famiglia in coal valley mille dollari di valore in bitcoin e attenzione il progetto è già eh finanziato quindi hanno già i soldi pronti per farlo meglio steward sta anche guardando avanti eh per aggiungere bitcoin al balance sheet quindi alla contabilità del della propria città questo ha replicato il cibo moltiplicando per trenta il cibo in sanado gli hanno dato trenta dollari questo è una mille arriveranno poi quelli che daranno anche cinquemila dollari esatto esatto e quindi questo apre la strada a eh all'ETF se ne sta parlando tanto dell'ETF americano l'articolo sull'ETF ne voglio menzionare due parto da CTO Larsson ci fa un breve riassunto di quello che sta accadendo il il chairman quindi il capo della SEC Gary Gensler di cui abbiamo parlato più volte ha appena rinnovato attenzione supporto per un ETF sui bitcoin futures il supporto in questa direzione viene da da un appunto fatto alla FT conference la SEC sta rinnovando più di una sta revisionando scusami più di una dozzina di richieste di ETF in bitcoin e eh bitcoin future product quindi prodotti legati a bitcoin futures e eh al di là di tutto quanto non ha ancora provato nulla sappiamo che è già presente ormai da tempo l'ETF in Canada molti capitali americani migrano verso il Canada per poter investire in ETF in bitcoin come ben sappiamo è una cosa che non piace tanto agli americani cioè al governo cioè preferisce che il business si fa a propria casa o meglio a casa propria chiaro ed ecco questa che è un po' una idea di quello che potrebbe accadere io me la sono segnata la data non so voi però io me la sono segnata diciamo che quello che accadrà in termini bearish riguardo all'ETF sarà molto forte e finora è stato molto forte sono due anni che si fa richieste delle prove di ETF e due anni che vengono rigettate tra ottobre e novembre ci sono le possibili approvazioni dei primi guardare all'approvazione dell'ETF potrebbe accadere al più tardi al 12 di novembre e se accadesse l'approvazione del 12 di novembre indubbiamente ovvio questo è un se ma al di là di questo il bitcoin non ha bisogno per questo ciclo e per l'accumulazione che si sta facendo on chain non ha bisogno dell'approvazione dell'ETF però quello che si vede in giro è un grandissimo propellente ma quello che si vede in giro inizia a lasciare pensare a una possibile approvazione al più tardi per il 12 di novembre e se questo dovesse accadere il lancio dell'ETF non ci sarà non prima del secondo trimestre del prossimo anno in teoria sarebbe tra il primo e il secondo trimestre del prossimo anno questa enorme finestra fino al secondo trimestre lascerebbe una possibile rally corsa per il bitcoin enorme che guarda caso è un po' quella che andrebbe a rispecchiare perfettamente quello che sta accadendo in termini di macro ciclo in termini di accumulazione on chain da parte di istituzionali grandi entità quindi balene eccetera cioè ogni volta che c'è un calo e l'investitore piccolo barra medio si spaventa vende a proprio alle balene e ripeto l'abbiamo visto on chain le varie puntate chi segue la nostra newsletter sta accadendo sotto gli occhi di tutti di chi lo vuol vedere e questo implica dei risultati sul prezzo inevitabili a meno che non accada qualcosa di eclatante bello macro un altro black swan event come è accaduto a marzo del 2020 quindi tutto deve essere sempre messo col punto interrogativo di dovere però la direzione è questa e poi finisco dopo passo la parola io sto manipolizzando io sto fantasticando con la mia testa oggi è davvero tutta un'intersezione di argomenti di notizie per andare a vedere secondo noi quello che accadrà nel prossimo trimestre e qui ci rifacciamo sempre al mitico plan B veramente un applauso perché aveva sentenziato voglio dire così ho previsto in realtà non è una previsione di prezzo è una previsione di livello minimo quindi di pavimento secondo il suo modello statistico di prezzo del bitcoin legato al a vari variabili guarda caso aveva parlato di 47 mila dollari ad agosto come livello minimo ha chiuso a 47 mila ha parlato di 43 mila come livello minimo a settembre difatti abbiamo visto dei prezzi anche più alti a settembre e ne avevamo parlato nel nostro video a inizio a inizio settembre con una nostra teoria guarda caso l'ha tenuta quasi in maniera perfetta infatti inizio un po' a preoccuparmi di questa cosa qua però va bene non siamo qui per fare previsioni ma per analizzare il mercato però siamo riusciti a individuare quello che stava accadendo e oggi siamo a 43 mila ottobre ha parlato di ottobre dai 63 mila in su novembre dai 98 mila in su dicembre dai 135 mila allacciate le cinture quindi questo è il trimestre che ci sta aspettando io me lo visualizzo me lo visiono ci credo può capitare di tutto ma questo è quello per cui sto posizionando la mia operatività in questa direzione in termini di trading di investimento di breve medio apro chiude parentesi albi troppo divertente vedere nelle due giornate precedenti ieri l'altro ieri quando il prezzo da 43 stava scendendo verso i 40 ieri sera siamo arrivati 40 41 40 quello che è la quantità di gente che diceva ecco plebino ci ha azzeccato ci sono svegliati stamattina ci stanno ripensando incredibile proprio la è stato riportato lì sopra a 43 adesso vediamo anche ripeto non sono previsioni sono i floor cioè i pavimenti minimi secondo il suo modello infatti dice agosto dai 47 in su settembre dai 43 in su ottobre dai 63 in su può può avere delle deviazioni può sbagliarsi però intanto questo modello sta da anni seguendo in maniera eclatante il prezzo del coin cosa è accaduto negli anni precedenti e quindi che cosa potrebbe allora aggiungiamo subito manca poi poche ore 13 ore alla chiusura del mese partiamo dal mensile candela rossa per questo mese di settembre un po chiamato un po previsto un po da tutti che mese di settembre era un mese così proprio anche dato alla chiusura fiscale negli stati uniti che finisce proprio oggi lo standard in pors che ha ritracciato in questi ultimi giorni che lo dobbiamo tenere controllato anche quello a stretto giro il dollaro che sta crescendo è cresciuto parecchio come tendenzialmente capita nel mese di settembre il mese di settembre ormai è finito quindi andiamo a vedere un attimo che cosa potrebbe essere dal mese di ottobre in avanti per farciò utilizziamo il grafico settimanale grafico settimanale che ha chiuso settimana scorsa al di sotto di questa resistenza ci stiamo ci stiamo lottando siamo lì appoggiati la candela è già tornata verde siamo al di sotto e a me piacerebbe vedere albi una chiusura di questa settimana al di sopra della 21 almeno la 21 settimane la media mobile 21 settimane la troviamo a 43 4 43 5 cosa fattibilissima perché mancano ancora tre giorni chiuderci sopra mi darebbe un po più di tranquillità anche se so e ho presente e credo come dicevi tu a quello che accadrà nei prossimi nei prossimi mesi come sempre facciamo andiamo a curiosare un po quello che è successo negli anni precedenti andiamo dal 2020 poi andiamo a vedere la precedente burran il mese di agosto e settembre agosto va fatto lo storno le ultime due settimane di settembre lo ringrandisco un po così vediamo se metto automatico no il mese di settembre aveva fatto le le ultime due settimane in rosso per poi partire la prima settimana di ottobre quindi nuovo anno fiscale prima due tre quattro cinque sei sette candele verdi che hanno portato un incremento del prezzo del cento per cento quasi siamo arrivati qui a sedici di novembre un più settanta quattro per cento poi una settimana di shakerata perché dopo un settanta quattro per cento come sta avvenendo un po adesso eh esattamente in questi ultimi due in questo ultimo mese un po di presa di beneficio c'è per poi continuare passare i massimi di di sempre andare comunque questo è quello che è stato nel 2020 ma andiamo anche più indietro andiamo a vedere nel nel 2017 che ci interessa un po di più perché eravamo proprio nella burran ha fatto il mese di luglio agosto andiamo qua questo è il mese di settembre siamo nel 2017 4 settembre la settimana dell'11 settembre qui anticipato addirittura verso la fine questo si vede meglio nelle quattro ore nei giornalieri negli ultimi giorni di settembre un po come è accaduto questa notte aveva già iniziato la sua la sua accelerazione partito e anche qui ha fatto in una due tre quattro cinque settimane un cento per cento quindi potrebbe tranquillamente portare il prezzo del bitcoin sopra i massimi di sempre se la storia si ripete però poi qua dobbiamo già non pensiamoci però teniamolo in considerazione che dopo un bel cento per cento possiamo anche assistere a una candela di questo tipo quindi la famosa shakerata per far spaventare tutti quelli che comprano in fomo e questo è quello che è accaduto nel 2017 proprio dai primi di ottobre a metà novembre si ripeterà poi novembre un piccolo storm e poi e poi vediamo l'ultima parte che è stata pazzesca da 6.000 abbiamo triplicato il prezzo in cinque settimane quindi stiamo a vedere che cosa succederà invece questa volta nel breve periodo andiamo nel giornaliero siamo all'interno di questo di questa falling wedge togliamo le medie mobili togliamo le medie mobili e all'interno abbiamo disegnato un altro triangolo lo vediamo bene nel quattro ore che al momento sta rispettando quasi alla perfezione anche stamattina è arrivato giusto giusto a toccarlo nella quattro ore che inizia 3.6 l'aveva passato toccato resistenza rientrato all'interno di questo triangolo che potrebbe tranquillamente portarci e albi tu qui so che stai facendo trading non dirlo potrebbe tranquillamente portarci fino proprio al 4 al 5 in questa zona dove potrebbe rompersi al rialzo sempre condizionale d'obbligo sia questo triangolo che la falling wedge quindi qua partire andare verso l'alto in questa zona questa zona però bene dai siamo al di sopra della di questo swing che avevamo visto tempo fa secondo me queste queste due tre giornate saranno giornate un po così però siamo pronti a mettere la marcia albi vediamo ethereum velocissimo ethereum anche lui nel breve continua a rimanere al di sotto di questa trend line però anche lui sta formando un po la stessa la stessa il tesso disegno di bitcoin ovviamente se bitcoin accelera accelera sicuramente anche ethereum e la dominance la dominance che ancora è ancora lì non non molla quindi anche questa dà un po l'idea che possa all'improvviso accelerare con il prezzo del bitcoin che accelera quindi stiamo a vedere che cosa accadrà la dominance iva sta formando un triangolo a base orizzontale lo possiamo bullish possiamo tracciarlo possiamo tracciarlo così no questo tu dici che vedrebbe guarda caso proprio la dominance ritornare a 44 mi pare così una cosa così tu volevi tracciare sì sì potremmo metterla così poi la sistemino è una formazione così un pattern di questo tipo solitamente rompe verso verso l'alto sarebbe un quello lì che guarda caso arriva proprio il 44 vediamo se riesco a prendere così il range di prezzo che poi non sei per cento andiamo a portarlo qua sopra sì in quella zona quella zona potrebbe incontrare la prima resistenza in zona 44 con il prezzo che corrisponderebbe con una corsa del prezzo di bitcoin assolutamente sì maggiore rispetto alle altre ecco in questo momento noi ci stiamo posizionando più per parlare proprio di quello che stiamo facendo noi a parte dove abbiamo posizionato gli ordini che siamo lì in mezzo insieme alle balene anche se balene non siamo per il momento con bitcoin e ethereum le altre in questo momento le lasciamo attendiamo attendiamo perché ovviamente la corsa e chi apre le porte chi apre la corsa sarà sempre btc anche per motivi di focus perché è importante quando si fa qualcosa dedicargli il giusto tempo giusto atteggiamento e quindi abbiamo bisogno proprio di rimanere fatti su su poche cose per poterle cogliere assolutamente sì quindi o albi siamo pronti e strusciamo le panie vediamo che cosa succede nelle prossime settimane ovviamente come ha detto alberto prima rimanete con noi perché sarà saranno un bel 34 mesi super interessanti e super divertenti dove ci saranno sempre nel mezzo i soliti shakeroni e voglio rispondere in in video ad alcune persone che dicono a voi fate questi titoli e queste cose solo per attirare le persone no assolutamente è il contrario noi facciamo questi titoli perché a ci crediamo noi b vogliamo aiutare più persone che alle quali diciamo sempre fatti le tue analisi non credere solo a quello che diciamo noi però non lo facciamo per guadagnare 150 euro no detto così proprio piano piano in youtube è perché vogliamo condividere quello che pensiamo noi e ci crediamo fermamente a quello che diciamo quindi non lo facciamo solo per attirare visualizzazioni giusto dai grazie mille albi sempre grande grandi notizie un po più lunga però qua bisogna preparare la pelle d'occa pelle d'occa perché ce avremo da qui ai prossimi tre mesi barra cinque mesi e sabato sabato bravissimo sabato un ospite di eccezione non ti svegliamo adesso chi è lo vedrai direttamente tu quando uscirà la locandina del della live ci devi essere perché è una persona veramente in gamba una persona che sta diventando sempre più autorevole è partito da da poco col canale youtube però è preparatissimo quindi dal nostro punto di vista è già estremamente autorevole e ce l'abbiamo con noi grande occasione ci vediamo sabato alle 15 e 15 assieme lasciaci un bella icone e commenta sei bullish sei bearish ti piace non ti piace e poi noi alla fine rispettiamo la idea di tutti assolutamente assolutamente sì ciao albi ciao a te a casa un abbraccione e ci vediamo stavato 15 e 15 cripto leone ciao ciao